Ben ritrovati con una nuova edizione del TG L'Aquila. In apertura parliamo della biglietteria della Fontana Luminosa L'Aquila che è regolarmente attiva con due dipendenti quotidianamente al lavoro. È quindi incomprensibile la richiesta di rimozione della struttura fatta dalla Presidente della circoscrizione dell'Aquila Centro Fabiana Costanzi perché è ritenuta abbandonata di incuria e degrado. La Presidente oggi ha aggiustato il tiro dicendo che il problema è l'occupazione legittima del suolo pubblico ma facciamo un po' il punto della situazione nel prossimo servizio. Nelle ultime ore si è ipotizzato lo spostamento dell'edificio dell'ex Sangritana qui alle mie spalle ma al momento tutto sembra funzionare regolarmente. Guardate. Nella giornata di ieri è infatti scoppiato un polverone sull'edificio dell'ex Sangritana, punto informativo per turisti posto nella piazza d'ingresso del centro storico dell'Aquila, tra la Fontana Luminosa e l'auditorium di Renzo Piano. In particolare la Presidente della circoscrizione dell'Aquila Centro Fabiana Costanzi ha richiesto lo spostamento del manufatto perché non è di proprietà comunale ed occupa indebitamente il suolo pubblico senza pagare alcuna retta al comune. In più, afferma Costanzi, il servizio di vendita dei biglietti dell'AMA può essere svolto dall'edicole, mentre quello della vendita dei biglietti per i trasporti extraurbani non è più necessario, dal momento che le corse fuori città non transitano più nei pressi della Fontana Luminosa. Per questo, e per restituire una visuale più ariosa alla piazza, è auspicabile lo spostamento della struttura, anche perché, conclude Costanzi, dai documenti comunali si evince che nessuno paga l'occupazione di suolo pubblico per quel manufatto. D'altro canto invece, i due dipendenti dell'edificio dell'ex Sangritana vendono circa un migliaio di biglietti al mese e sono un punto di riferimento per i turisti che visitano il centro storico. Essi sostengono di non sapere nulla al riguardo, continuando a svolgere il proprio servizio verso i cittadini come ormai da quasi dieci anni. Parliamo adesso dei fondi post-sisma per le aziende agricole, perché i 14 milioni di euro complessivi inseriti nella piano di sviluppo rurale per ristrutturare e incentivare le aziende agricole danneggiate dal sisma non saranno spesi in toto per motivi burocratici. La rabbia di un allevatore nell'asservizio curato per noi da Filippo Tronca. Correva l'anno 2012 quando le regioni italiane rinunciarono a parte dei loro fondi europei del piano di sviluppo rurale e donarono 14 milioni per finanziare interventi di ricostruzione e rilancio produttivo delle tante aziende agricole devastate dal terremoto. Fondi inseriti nel PSR abruzzese, conclusisi il 31 dicembre. Fondi inseriti nel PSR abruzzese, che si è concluso il 31 dicembre. E oggi si scopre che solo una parte di questi fondi sono stati utilizzati. Sarà il Ministero con i suoi rendiconti a dire a breve quanti di quei fondi torneranno a Bruxelles. Questa volta però la colpa, assicura al nostro microfono Dino Rossi, esponente dell'Associazione di Allevatori Cospa, non è della lentezza burocratica e la misura ad essere stata concepita nel modo sbagliato all'origine. Tante aziende al palo e marturiate dalla crisi, infatti, che pur avevano bisogno di quei fondi come ossigeno, non avevano a disposizione le somme necessarie a coprire il 50% di tasca propria. Chi poteva accedere a questo tipo di investimento riguarda solamente chi sta bene economicamente, perché si tratta di affrontare tutta la spesa, chiudere le quietanze delle fatture e poi aspettare che la regione deriva il 50% di quello che praticamente è stata la spesa. Se non ce l'hai, la banca ti chiede la fiduzione, la fiduzione va dietro garanzia, garanzia su un immobile che praticamente è diroccato, non te la fa nessuno, è come il cane che si muore con la goda. E restiamo in tema parlando del Parco del Gran Sasso, perché a tre anni dall'avvio del progetto Life Praterie, attuato appunto dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con un budget pensate di 1 milione e 600 mila euro cofinanziato dalla Commissione Europea, si traccia un po' il bilancio dei lavori. Tra gli interventi realizzati sei recinti di parto per bovini, un recinto antidilupo per bovini e cavalli al pascolo, un recinto sperimentale, oltre che 43 recinti elettrificati per la realizzazione di stazzi notturni per gli ovini. E parliamo adesso di un importante evento, perché lunedì 11 gennaio all'Aquila alle ore 11.30, nell'aura consigliare dell'emiciclo, si terrà la giornata formativa la Shoah e le foibe, ricordare perché non accada di nuovo. È stato promosso l'evento dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e in collaborazione con l'Istituto Abruzzese per la storia e la resistenza dell'Italia contemporanea. Gli studenti delle scuole abruzzesi saranno ricevuti dalla Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. Il progetto nasce nell'ambito delle iniziative realizzate al fino di promuovere studi ed approfondimenti sui tragici temi della Shoah e delle foibe, ed è rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori abruzzesi. Tra le scuole che hanno aderito al progetto c'è in particolare l'ITIS Amedeo d'Aosta dell'Aquila. Restando in tema storico, ma spostandoci ad Avezzano, parliamo della polemica nata sull'inno di Mameli, perché Verrecchia attacca il sindaco che aveva dichiarato di voler rottamare l'inno di Mameli. Sono gravissime le dichiarazioni del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, riportate oggi sullo quotidiano e il messaggero sull'inno di Mameli, secondo cui appunto bisognerebbe rottamarlo in quanto i testi e la musica dell'inno nazionale italiano lo pongono oggi fuori tempo e fuori luogo. Lo afferma in una nota il coordinatore provinciale dell'Aquila Massimo Verrecchia. Al di là delle posizioni politiche, è grave che queste parole siano state pronunciate da una sindaco, addirittura all'interno di una scuola. L'inno di Mameli ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà per gli italiani nel nostro paese e nel mondo un insostituibile sentimento di appartenenza. È l'unica cosa che vede uniti tutti gli italiani perché non solo è bello ma è legato al sacrificio di tante persone. Il sindaco Di Pangrazio chieda pubblicamente scusa rottamando invece le sue gravi quanto inqualificabili dichiarazioni. Conclude Verrecchia che ricordiamo è il coordinatore provinciale dell'Aquila dell'NCD. E adesso torniamo appunto all'Aquila parlando della festa di Sant'Agnese, la festa delle malelingue che prende il via oggi. Noi siamo andati in giro per le vie appunto del centro storico della città chiedendo agli aquilani cosa pensano della festa di Sant'Agnese. Ascoltate. L'Aquila torna a festeggiare Sant'Agnese, santa protettrice delle malelingue. Appuntamento oramai tradizionale che avrà il suo momento clui il 21 gennaio ma già da oggi pomeriggio il movimento agnesino che conta ben 206 confraternite ufficiali celebrerà uno scherzoso processo al pianeta Maldicenza. In attesa della sentenza, come ogni anno, ci si torna intanto a interrogare su questa senz'altro originale manifestazione, unica nel suo genere. Ci si chiede innanzitutto è giusto addirittura celebrare quel gran brutto vizio del parlare male e dello spettegolare alle spalle? Oppure la maldicenza è in fondo una virtù perché nell'accezione socratica significa parresia, ovvero dire la verità, praticare una critica mordace e sincera? E infine la domanda la riserviamo ai filosofi. Lanciare strali su Sant'Agnese e chi la festeggia non è in fondo anche essa maldicenza? Sono curioso di verla, io sto lavorando qui per un film quindi sono quella di passaggio. E ritiene che gli aquilani sono dei pettegoli? Non li conosco bene, sto cercando di osservare, di guardare, di conoscerla, l'aquila che è fantastica. È un'occasione soltanto per incontrarsi con gli amici. Però è un modo per incontrarsi, stare insieme. È un modo solo per incontrarsi con gli amici. Lei non è pettegolo? No, no. Giorgio. In poche parole. Sì. È storica, è storica. Non è oggi che si fa. Però è un divertimento per gli amici che si riuniscono. E chi dice la sua? Chi dice... Chi dice la sua soprattutto sugli assenti? Dice la sua e sugli assenti diciamo una frase un po' e si sputtano l'uno con l'altro. La festa di tutti, di tutti gli amici che si riuniamo e quando fai un presidente la mamma mi cazzo, mi fa, si fa. C'è sempre stato ogni anno penso, è stata sempre simpatica, sì. Vabbè, non ho altro da dire. Lei è un pettegolo? Ma insomma, penso di no, insomma, penso di no. Una volta ci siamo riuniti alle poste per la festa di Sant'Agnese, abbiamo messo i nomi sopra i giornali e abbiamo fatto la cena, la solita cena e ci siamo divertiti abbastanza, insomma. Apriamo adesso la pagina sportiva, parliamo di calcio, dell'Aquila calcio in Lega Pro perché si avvicina il ritorno in campo domani ore 14 allo Stadio Fattori contro la Lupa Roma, una gara da vincere a tutti i costi in un vero e proprio scontro salvezza. Il tecnico aquilano Carlo Perrone è però in emergenza, soprattutto per il reparto arretrato dove mancheranno sia Maccarrone che Cosentini. Tutti i dettagli nel servizio. L'Aquila si presenta al 2016, ospitando la Lupa Roma nell'ultimo turno di andata del girone B di Lega Pro. I rosso-blu di Carlo Perrone sono reduci dal tonfo di fine anno a Lucca e devono tornare subito a fare punti contro una diretta concorrente in ottica salvezza. Ottenere l'intera posta in palio, poi, sarebbe fondamentale per rivitalizzare l'ambiente, a pochi giorni dall'inizio del nuovo processo sul calcio scommesse, che porterà a con molte probabilità nuovi punti di penalizzazione in classifica. La Lupa Roma si presenterà in Abruzzo con tre nuove pedine, arrivate alla corte del tecnico Cucciari durante questi primi giorni del mercato invernale. Si tratta del difensore Sembroni e dei centrocampisti Ferrari e Volpe. Nell'Aquila mancheranno lo squalificato Zandrini tra i pali e i centrali difensivi Giordano Maccarrone e Nicola Cosentini. Sul fronte formazione, alla luce dell'emergenza, specialmente in difesa, Perrone dovrebbe optare per il passaggio dal 3-5-2 al 4-4-2 con Sanni e Anderson al centro della difesa e Stivaletta, possibile seconda punta, dietro Perna. Tornerà tra i titolari Salvatore San Domenico dopo la squalifica per somma di ammunizioni scontata a Lucca. E restiamo a parlare di sport, ma dal calcio passiamo al rugby, perché il nuovo basket aquilano ha vinto l'undicesima edizione del torneo della Befana, categoria Under-13. Stiamo parlando degli anni 2003-2004, davanti a circa 2.000 spettatori a Rieti e con 55 formazioni partecipanti e oltre 700 atleti, ad avere la meglio sono stati appunto i giovani aquilani che dopo aver rassuperato nelle qualificazioni San Cesario, Campli, Foresta, Rieti e Arezzo si sono imposti in finale sulla Leoncino Mestre con il punteggio di 58 a 56. Passiamo adesso alla cultura e parliamo dell'istituzione sinfonica abruzzese, perché è stata concessa una proroga di sei mesi alla presidenza dell'istituzione sinfonica abruzzese di Antonio Centi, mesi durante i quali uno specifico gruppo di lavoro, adesso guidato dall'avvocato Tullio Buzzelli, socio fondatore tra l'altro dell'istituzione sinfonica abruzzese, lavorerà alla revisione dello statuto. È questa la decisione che l'assemblea dei soci dell'ISA ha assunto ieri alla fine di un'ampia e partecipata discussione. Alla fine di questo periodo si procederà poi all'elezione della nuova dirigenza, stiamo parlando appunto della presidenza, del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti. Ancora con un evento culturale all'Aquila, domenica 10 gennaio alle ore 18 all'auditorium della Scuola della Guardia di Finanza, in programma lo spettacolo Il Battito del Mondo, un affascinante viaggio musicale dalle danze del Mediterraneo ai suoni del deserto, ideato da un gruppo di percussionisti aquilani fondato dal musicista Maurizio Trippitelli. Special guest della serata sarà il trombettista jazz Fabrizio Bosco. E ancora, finiamo con la cultura, parlando però adesso e dando un'informazione di servizio, la Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila ha pubblicato oggi il bando per la presentazione delle domande di contributo per l'esercizio 2016. I soggetti interessati potranno partecipare presentando domanda utilizzando l'apposita modulistica, scaricabile direttamente dal sito web della Fondazione www.fondazionecarisphq.it nella sezione attività e progetti. Le domande dovranno essere inviate a mezzo posta alla Fondazione in via Salaria Antica Ovest 8 l'Aquila, improrogabilmente entro il 29 febbraio prossimo. La somma messa a disposizione per il 2016 è pari a 750 mila euro. Bene, era la nostra ultima notizia, io mi fermo qui, ringrazio tutti voi per averci scelto. Appuntamento alla prossima edizione della Digi l'Aquila. Buon proseguimento a tutti voi.